Aereo di controllo spionato 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 Tutti contro tutti 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 Aereo di controllo spionato Missione iniziata Aereo di controllo spionato Buona fortuna La nostra gente conta su di noi Aereo spia nemico in arrivo Aereo di controllo spionato 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 Aereo spiega 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 Attacco al napalm Nemico imminente Aereo spiega Aereo spiega Aereo spiega Aereo spiega Aereo spiega Questa robot nemica rilevata nell'area operativa. Il tempo sta per finire. Missile cruise nemico lanciato. Questa robot nemico lanciato. Questa robot nemico lanciato. Questa robot nemico lanciato.